Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi una magia fatta con due contenitori di plastica e dei dadi. È un trucco di magia cinese. Ci sono trucchi magici cinesi e giapponesi veramente belli. La marca è Tenio e purtroppo ovviamente ci sono anche dei trucchi magici cinesi e giapponesi che sono veramente orribili. Adesso vi saluto e vi lascio alla performance. Bellissimo. Ha un effetto visivo pazzesco. Pazzesco. Niente, vi saluto e al prossimo video. Ciao!